Ciao amici, sono sempre io, Martina. Ah, sì. Scusate, ogni tanto bisogna fare anche un po' i pagliacci nella vita, ma tornare a essere una persona seria è un attimo, con Aquamagic! Il panno Lasca, grazie alla sua particolare struttura, rimuove efficacemente residui di trucco, grasso e cellule morte. Il panno Lasca ha proprietà assorbenti uniche e può essere applicato su qualsiasi tipo di pelle, comprese quelle più sensibili. Inoltre, le nanoparticelle d'argento nelle microfibre impediscono la crescita di batteri patogeni. E anche in questo caso si utilizza solo acqua, senza nessun prodotto chimico che potrebbe irritare la pelle. Non avrei saputo dirlo meglio. Adesso sono una persona seria, più o meno.